La Presidente Marini ha riferito in terza commissione lo stato delle cose per quanto concerne le liste d'attesa negli ospedali Umbri, pronto un piano straordinario per abbattere i tempi, soprattutto dove si verifica la massima concentrazione di utenti in riferimento alle tipologie di prestazioni più richieste, risonanza magnetica, ecografie, doppler, oculistica, mammografia. L'atto della Giunta sarà pronto entro la fine del mese. Si pensa un utilizzo allungato fino alle ore serali delle tecnologie a disposizione, che comporta anche un aumento del personale. C'è l'ipotesi che possa essere fornito dalle strutture convenzionate, ad esempio per mezzo di tecnici che vanno a coprire l'estensione dell'orario andando a lavorare dentro l'ospedale. Si pensa anche a una sperimentazione della modalità organizzativa negli ospedali basata sull'overbooking, vale a dire velocizzare l'accesso alle prestazioni includendo pazienti in lista di attesa in quei casi, e non sono pochi, in cui le persone non si presentano pur essendo prenotate in un dato giorno. La Presidente Marina ha sottolineato che i medici di medicina generale al 90% rispettano i raggruppamenti di attesa omogenea, che distinguono prestazioni di tipo U da effettuare entro tre giorni, tipo B entro 10 giorni e tipo D entro 30 giorni. Ma gli specialisti non fanno altrettanto, anche fra quelli convenzionati. Vi sono poi casi come le mammografie dove si va oltre i 180 giorni, ma bisogna valutare le varie situazioni quando non c'è urgenza, oppure la paziente rientra nella fascia di età compresa nello screening, si finisce nella inappropriatezza e la appropriatezza delle prestazioni è uno dei cardini del piano sanitario vigente. Nemmeno il CUP unico regionale riesce a risolvere tutti i problemi, perché non sempre il cittadino accetta la disponibilità, anche immediata, di un ospedale che non sia del suo comune di residenza.